Ma la lanza, sei tedre Sono qua, stanno uscendo qua a destra, bros Sì, mi piace dire Oh, ce n'è uno, top È sceso adesso Ti sono Oh, raga, la mia mia era assistita, raga Mia mia era assistita Mi è partita completamente Oh mio dio, come mi è partita Era nascosto Sopravvita, brà Senta What's up, guys? Go e vostro naker che mi parla, ragazzi Siamo tornati con un nuovo video Ragazzi, mi avete tartassato di segnalazioni Nakedone Ma perché tutti usano l'arma guerra Ma è meta, non è meta E dove sta la verità? Oggi, ragazzuoli, sono qui Per svelarvi La Scomoda verità Ovvero Il nazionale Ha sempre ragione Iniziare, raga Dopo vi lascerò il gameplay Adesso vi faccio vedere la build E poi vi faccio vedere velocemente Un test grafico Per farvi capire E farvi vedere alcune cose Allora La build del nazionale La build del nazionale Is volata Convoiatore Canna in merito 5,50 Poi vi spiego anche il perché L'asta riflettente Calcio in merito SA pieghevole Se avete problemi a controllarla Raga Mettetela a botti E vi sistema abbastanza Il recoglio Ho messo questo perché Con l'arma guerra Buon feeling Quindi Con l'SA ti muovi Lievemente più fast Nel caso vabbè Fate solo quel change Gioco di prestigio E molti hanno già capito perché Specialità 2 Celerità Impugnatura Con fettuccine Ragù di cinghiale Caricatore Da 34 Colpi Vabbè poi Bonizione di punta cava E sotto canna Mark 5 base Perché i 34 E non come Si usa adesso I 72 Perché i 34 Sono Il Il caricatore Che rende In realtà Meta L'arma guerra Ovviamente C'è un'ovvietà Che 34 colpi Sono Veramente Pochissimi Nel video che vedrete Vedete appunto questa bill Con i 34 Colpi Sono riuscito a gestirmeli bene Inutile che vi dica Ragazzi sono pochissimi Ma proprio Pochi 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 Si compensa un po' Con un gioco di prestigio Perché ricarica Molto veloce Però Questo è Non è minimamente in discussione Questa cosa E Vi può capitare Molto spesso Di Trovarvi in una situazione Dove Non potete Ricaricare E Ricaricate E la pigliate Intercooler Ma dove andiamo a vedere Un attimo Su Simone Pazzo Il nostro sito Di comparations Ho messo due Arma guerra Raga Come la vedete Come l'avete vista Praticamente Con l'immerito 550 I colpi Da 34 E una uguale Con però I 72 Colpi Ho messo H4 E la Marco 5 Raga Molti Ho visto Che la usano Con la Allora La short La short Raga Non porta Nessun Vantaggio A livello Né di velocità Proiettile Né di portata Né in qualsiasi Altro Ambito Dove l'arma Possa fare più danno È solo una questione Di movement Con la canna corta Non aumenta neanche La cadenza Questo per farvi capire Praticamente Aumentate Il recoil Dell'arma Però siete più veloci Nei movimenti E sta roba qua Non lo so quanto sia Effettivamente Conveniente Vi muovete un pelo più veloce Questo sì Però Si scompensa un po' l'arma E la La 550 Ragazzi Questa qui Aumenta Un pochitos La Velocità proiettile E Stabilizza l'arma Sia orizzontalmente Che a livello Di recoil Andiamo a vedere Il Il graficozzo Come potete vedere Ragazzuoli Nel grafico del TTK Quella che sovrasta tutte È l'arma guerra Con la linea Arancione Cioè l'arma Arma guerra 1 Ovvero Quella appunto Con i 34 Colpi Dopodiché Abbiamo L'H4 Pixel Dopodiché Abbiamo l'arma guerra E poi L'arma guerra con i 72 E dopodiché La Marco 5 Con la build Quella classica Normale Con la Perfetto lesto 48 colpi Eccetera 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 Questo solo per farvi capire che Quei 72 È molto forte Ma in realtà L'H4 Rimane Un passo Avanti Rispetto All'arma guerra Con i 72 colpi In realtà ragazzi C'è un altro C'è un altro modo Per potenziare Un po' L'arma guerra È L'inserimento Della Botti 3 1 5 E come potete vedere Già Il tetuki si è abbassato Come vedete qua L'ho messo in quella Da 72 E adesso È scesa Praticamente A livello dell'H4 Come potete vedere Il problema che cos'è Che è una canna Che scompensa Tantissimo L'arma E non so Quanto convenga Proprio perché Dopo credo Già 10-12 metri Inizia a traballare E si fa veramente Fatica a colpire Il nemico Quindi Mettere a 315 Sì A bassi Time to kill Ma è molto rischioso Perché l'arma Diventa Quasi ingestibile Quindi ragazzoni belli Adesso vi lascio il video Fatemi sapere qua sotto Nei commenti Cosa ne pensate Dell'arma guerra pazza Del Nazionalo Ovviamente non dimenticatevi Di lasciare il like L'iscrizione Al canalone Del like Passate dalla piattaforma Violacea Se non volete per Il nazionalo Il live Noi ci vediamo Domani Con il prossimo video Bella Tanto detto L'ho fatto L'ultimo è top Mi sa No? Sceso forse Risolvero Si è droppato uno adesso Bro Oh mi dissocio Da questo Mentecatto Proprio Sto uscendo qua a destra Bro Ce n'è uno È sceso adesso Sì sono Mi è rassistito Mi è partito Completamente Oh mio dio Come mi è partita Oh my god Arrivato Sei qua frate Ci posso credere Mi ha fatto Dalla Boh Dalla casa Siete qua Siete qua Siete qua Siete qua Tutti senza Tutti senza ragazzi Corazzo Corazzo Giù Sergio Siete qua Davanti a me Sono in due Sono in due Sfera e basta Ruttarò Il problema è che sono pochi È craccato Crackate Crackate One È fatto È un kid Un kid Perino Un kid Un kid Un kid Un kid Sono caduto addosso Sì 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 Uno lo vedo Crackate Ad uno Preso uno Nice Sono Dove cazzo È il carrello Sopra Sono appena arrestato Porca mignotta Raga Mi è arrivato Un missile in bocca Oh Sono morto Raga Raga Ma che cazzo Guardate Questo qua L'ho fatto L'ho fatto L'ho fatto L'ho fatto L'ho fatto L'ho fatto Frati Non so come neanche Cazzo è successo Sta roba Ma c'è un altro Sì 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 Ma l'ha attaccato Ancora Però me l'ha attaccata pure me Pazzisco Pazzisco Qua sopra il tetto Smith Un mostro Questo qua con l'arco C'è un crispino Oddio Metti l'assalto E sul tetto Non so come cazzo Sta lì È lì un quarto d'ora Ha fatto Non ha misto un colpo Non l'ha mistato Boh Beh bravo I due colpi della vita Prova Fat Lui c'è l'A6 Aspetterà con le siringhe Sei intelligente Se no Metti l'SMG Corri vai sotto Bravo Un crispino Minchia Un kill della vita Fat Che ho visto Vince Charles Non so come cazzo Non so come cazzo Di laddata